Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale DTV City. Caos sui vaccini dopo i ritardi nelle consegne delle case farmaceutiche. Intanto il presidente della regione Campania De Luca attacca il governo per il piano di vaccinazione. E stallo ancora a Palazzo Baronale, con l'aggiunta ancora senza assessori. Intanto maggioranze e opposizioni si sfaldano e mentre al comune si discute la crisi economica si aggrava in città. Commercianti lamentano l'abbandono da parte delle istituzioni. Abbiamo raccolto il loro appello. E via Monte di Resina è ancora in uno stato di degrado e abbandono. Lo dimostra il video di denuncia di un attivista. Passiamo ora alla cronaca con i carabinieri di Tone annunziata che hanno scoperto degli sgorghi illeciti e pericolosi di rifiuti nel terreno cittadino. Il sequestro questa mattina. E in conclusione lo sport con la Turris che subisce una pesante sconfitta a Liguori contro l'Avellino. Questo e molto altro nei nostri servizi. Ancora caos vaccini in Italia. Le case farmaceutiche, in particolare la Pfizer, hanno ritardato le ulteriori consegne delle dosi in tutta Europa. Un inadempimento gravissimo se si considera che molti hanno effettuato solo la prima somministrazione e sono in attesa del richiamo. Richiamo che deve essere effettuato necessariamente entro 21 giorni. Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da AstraZeneca faranno slittare di circa 4 settimane i tempi previsti per le vaccinazioni degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione. Tempi che, come è facile intuire, si traducono in nuovi contagi e in nuove vittime. Proteste soprattutto da parte del governo italiano. Un ritardo del genere, come sostiene lo stesso Premier Conte, mette in difficoltà principalmente i paesi più virtuosi, che maggiormente hanno scandito in modo puntuale e preciso un piano di vaccinazioni. Duro anche il commissario Arcuri. Stanno trattando 27 paesi europei come dei poveracci. Queste aziende non producono bibite e merendine, ma si sono impegnate a dare una certa quantità di vaccini. Mentre i ritardi coinvolgono tutta Europa, la Campania lamenta irregolarità nella diffusione dei vaccini su scala nazionale. Il presidente De Luca ha più volte ribadito che la nostra regione ha ricevuto molte meno dosi del dovuto. La distribuzione è avvenuta sulla base degli operatori sanitari impiegati sui singoli territori, ma non tiene in conto il numero di abitanti e le criticità delle singole regioni. Motivo per cui la Campania, pur con un milione di cittadini in più, ha ricevuto la stessa dose dei vaccini dell'Emilia Romagna. Siamo stati vittime di un mercato nero, ha denunciato il governatore. Nella riunione di sabato tra governo e regioni, De Luca ha attaccato duramente proprio Arcuri. Nel vertice online, convocato dal ministro Boccia, De Luca ha infatti sottolineato la sperequazione nel piano di distribuzione, un discorso che ha portato a uno scontro diretto con Arcuri finito in lite. Prosegue lo stallo a Palazzo Baronale. Dopo più di due settimane all'azzeramento della giunta comunale, deciso al sindaco Giovanni Palomba, Torre del Greco è ancora senza assessori. Difficoltà sulle nomine che evidenziano una profonda crisi nella maggioranza. Inevitabile il fermento tra gli schieramenti, chi per incentivare una rapida risoluzione della crisi, chi per approfittare e sferrare un colpo di grazia all'amministrazione Palomba. È proprio la maggioranza a fremere maggiormente, con gli otto consiglieri riunitisi in quella che hanno definito federazione. A firmare il consigliere Piccirillo, la nuova corrente ha chiesto al primo cittadino di svegliarsi e di convocare un consiglio comunale per valutare se c'è ancora l'appoggio di una maggioranza sui punti salienti del programma politico. Una richiesta che appare sempre più un vincolo di fiducia. Anche l'opposizione sembra caratterizzata da forti contraddizioni interne. L'esempio sono le conflittuali affermazioni del salviniano Luigi Mele. Inizialmente aveva cavalcato l'onda della crisi chiedendo le immediate dimissioni di Palomba e tirando fuori tutte le criticità che da sempre caratterizzano l'amministrazione. Poi, improvvisamente, nella giornata di ieri, Mele, insieme all'altro leghista Buono, ha manifestato il voler fornire il proprio appoggio al sindaco. Un dietrofront da cui la stessa Lega, a nome del segretario cittadino Maria Gabriella Palomba, ha preso le distanze, ribadendo di non condividere assolutamente gli intenti dei due consiglieri. Un'illuminazione sulla via di Damasco, così ha commentato l'ex sindaco Ciro Borriello, abbracciando i dubbi e le critiche del partito. Il chirurgo, dopo l'ironia, ha attaccato direttamente Mele. Nel frattempo, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Santa Borriello e Vincenzo Salerno, si sono scagliati contro il PD cittadino, accusandolo di immobilismo in una situazione tanto delicata. Salvatore Romano, segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, ha risposto chiedendosi perché accusare di immobilismo una forza politica che non è presente in Consiglio. Più diretto, invece, l'onorevole pentastellato Luigi Gallo, che ha ipotizzato una nuova maggioranza guidata da un sindaco a 5 Stelle. La sua attività si occupa prevalentemente di stampa e grafica. Nel periodo natalizio sono attività che servono soprattutto a un'amministrazione comunale. Lei ha lavorato? Noi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di preventivo, nessun lavoro fatto, quindi siamo veramente dispiaciuti. Fortunatamente lavoriamo con scuole, diciamo, locali, enti locali, ma non abbiamo ricevuto una sola richiesta di preventivo, zero. Eppure comunque abbiamo visto manifesti fatti, volantini fatti, e questa è una cosa che ci rimane, ci rimanevamo proprio delusi, delusissimi da questa amministrazione, che pensa solo ai comodi loro. Da quanto lavora sul territorio d'Urre del Greco? Noi siamo un'azienda che dal 94 esercita la propria attività, quindi sembra strano che non abbiamo ricevuto nemmeno una richiesta oppure un'email dicendo tu Maurizio Serigraf puoi fare un manifesto, quanto ci costa fare un manifesto, che prezzi hai? Invece zero, sono scomparsi. Dubbi ai quali Maurizio non riesce a trovare una risposta, così come tante altre attività attive da anni sul territorio d'Urre del Greco, che si accodano al suo appello, un malcontento che diventa ancora più marcato per il momento drammatico che sta vivendo l'economia cittadina. Un periodo di emergenza economica, legata soprattutto all'emergenza sanitaria, ma c'è malcontento da parte degli esercizi commerciali, esercizi commerciali messi a dura prova, soprattutto durante le festività natalizie, che ora nutrono una sfiducia nei confronti dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. Da cosa nasce questo malcontento? Il malcontento nasce da tutti noi commercianti, quindi non riusciamo a capire come voi prendete voti da Torre del Greco, da noi commercianti, da noi imprenditori, e poi spostate automaticamente questi lavori in altre zone. Cioè siamo stanchi, siamo stufi, sono anni e anni che vi nascondete dietro a queste associazioni fasulle per far scomparire quel poco che a noi servirebbe, perché noi comunque, io sono un'azienda che fortunatamente riesce a mantenere alcune famiglie del territorio. Ma perché fare questi movimenti strani, far sparire delle cose, dei lavori che a noi potrebbero veramente servire, quel poco per dare da mangiare veramente a queste famiglie e fare sempre questi giochetti. Quando poi serviranno voti e quant'altro, inizieranno a bussarci di nuovo. E noi ci dobbiamo far sentire, perché non è possibile rimanere fermi a guardare queste persone che fanno sempre il loro lurido gioco. Via Monti di Resina, strada alle pendici del Vesuvio, contesa a Fratore del Greco e del Colano, e di nuovo, come sempre, una discarica a cielo aperto. Basta guardare i bordi della gareggiata per rendersi conto dell'abbandono. I rifiuti si accumulano giorno dopo giorno tra erbacce incolte. Alzando lo sguardo a quello che dovrebbe essere già il verde del nostro vulcano, l'immagine è quella di una vera e propria discarica, con tanto i rifiuti ingombranti e pericolosi. È evidente la presenza di amianto e di altri materiali tossici. Ogni sistema per contrastare il fenomeno, come fototrappole o, semplicemente, fari che possano rendere visibile la zona, non viene sperito all'amministrazione comunale. Una strada percorsa tutti i giorni da residenti e da bambini, una strada percorsa tutti i giorni da residenti e da bambini che vanno a scuola, come conferma l'attivista Ciretta Vitello in un video di denuncia. Ormai sono anni che lotto per questa strada, una strada percorsa da tanti bambini e ragazzi che vanno alle scuole elementari e medie. È uno schifo, è un degrado. Cioè, quanto costa una fototrappola? Quanto costa un palo della luce e beccare questi incivili bastardi? Nel corso dell'ultima settimana, i carabinieri del NOE di Napoli, supportati dai carabinieri di Torre Annunziata, hanno effettuato attività di verifica nell'ambito del polo nautico Ex Area Preamare, ubicato nel comune di Torre Annunziata e gestito dalla società Condominio Marina di Torre Annunziata. I militari hanno accertato che l'impianto di depurazione per le acque nere, di dilavamento e meteoriche a servizio dell'intero polo nautico presentava gravi malfunzionamenti che ne hanno compromesso il funzionamento, tanto che i rifiuti liquidi, accumulati all'interno di una vasca di accumulo, tramite un sistema di bypass e pompe sommesse, venivano sversati e quindi smaltiti direttamente sul nudo terreno. Nello stesso contesto, i carabinieri hanno accertato che un ingente quantitativo di rifiuti speciali, anche pericolosi, provenienti dalle varie attività in essere all'interno del polo nautico, era stato stoccato direttamente sul terreno ed esposto agli agenti atmosferici senza le opportune coperture di previsti bacini di contenimento per le fuoriuscite accidentali. Al termine di queste prime attività di verifica, che continueranno anche nei prossimi giorni, i carabinieri del 9 di Napoli hanno sequestrato l'impianto e i macchinari utilizzati. A carico del responsabile delle infrastrutture e delle aree comuni del polo nautico, condominio Marina di Torre Annunziata e di alcuni titolari di attività produttive, sono stati contestati i reati di scarico non autorizzato sul suolo di rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose e gestione illecita di rifiuti speciali anche pericolosi. Inizia con una sconfitta al girone di ritorno della Turris. L'Avellino smanca il Liguori con uno 0-2 che lascia una mano in bocca agli uomini di Fabiano che subiscono la superiorità degli Irpini sin dalle prime battute. Prima Maniero da lontano chiama Bagnale all'intervento non difficile, poi è Tito che su calcio di punizione centra la traversa, ma a metà primo tempo è Silvestri a svettare di testa sul calcio d'angolo e insaccare nella porta Corallina. La Turris prova a reggire ma una conclusione di Franco termina ampiamente fuori. La ripresa si apre con Pandolfi che ci prova da fuori aria ma il suo tiro lambisce il palo. Gli ospiti riprendono a macinare gioco e guadagnano un calcio di rigore per un ingenuo fallo di Romano che stende Maniero in aria. Lo stesso Maniero del dischetto manda in rete il pallone pur deviato dall'estremo difensore Corallino. Non accade quasi più nulla fino al triplice fischio che sancisce la vittoria dei Biancoverdi mentre la Turris fatica ancora a dare continuità di risultati tra le mura amiche. Il prossimo impegno sabato pomeriggio in trasferta contro la Virtus Francavilla. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. Con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.